La facciata mostra le profonde ferite inferte dal sisma che da un anno ha reso inagibile il castello di Lanciano, tanto che solo adesso, dopo un primo intervento di messa in sicurezza, è stato possibile rientrarvi. Dalle scorse ore, infatti, gli esperti della soprintendenza, insieme ai carabinieri della tutela patrimonio culturale, sono al lavoro per recuperare i quadri e i preziosi mobili custoditi all'interno del castello, situato a Castella Raimondo e che rientra tra le proprietà della diocesi di Camerino San Severino Marche. Dopo aver messo in sicurezza, come è possibile vedere, è possibile entrare e mettere a sicuro tutta la quantità di opere, dalle sedie, dai mobili, ai quadri, alle altre strutture, ai servizi, in maniera da impedire che queste opere vadano rovinate nel momento in cui, con l'appalto eccetera, entreranno gli operai a fare i lavori che devono fare. Lanciano è stato inserito tra i 53 beni culturali, a cui sarà destinata una quota a parte dei 95 milioni, previsti dal piano post-sisma per la ristrutturazione. Ultimata la prima fase della messa in sicurezza, ora si apre quella successiva, che dovrebbe durare un paio di mesi. Solo dopo sarà possibile avviare il recupero vero e proprio, che non durerà meno di due anni. Stiamo completando ancora la fase di puntellamento, perché il castello è effettivamente pericolante e minaccia il crollo. Il castello ha subito danni gravissimi, specialmente nel piano nobile, che è il primo piano. I danni sono lo sprofondamento dei solai, l'apertura dei muri, quindi il distacco dei solai e dei muri, e quindi l'inizio e il ribaltamento di tutte le pareti perimetrali. I danni sono notevoli anche perché l'interno delle pareti sono tutte affrescate, quindi è un problema poi nel restauro successivo andare a intervenire su pareti che sono tutte completamente decorate.